È impossibile entrare e uscire e stiamo cercando veramente da tantissimi anni di fare luce su questo luogo, dai contorni misteriosi. Pronto? Dobbiamo entrare nella zona alle 11-14 minuti, non avrai una seconda occasione. Pensi che i governi di tutto il mondo hanno stanziato delle cifre iperboliche. Abbiamo anche inviato raggiù i nostri migliori ricercatori. Hai una possibilità, venire al punto di ritrovo tra un'ora. Senta, non è che per caso vai in direzione Solmezzo? Se qualcuno di voi non se la sente, questo è il momento per dire no. Che una volta che saremo partiti e saremo andati là fuori, non avremo modo di poter tornare indietro. Deve essere la zona a dire di chi portare o chi no. A me è cresciuta la barba. E se questo luogo fosse un inferno, come ho fatto da paradiso, chi va per primo? Che è? Siete qui oggi, è perché la zona ha visto qualcosa in voi. Sono perduto! No! Fermo! Qui dentro è responsabilità mía! Qui dentro è responsabilità mia! Ce l'abbiamo fatta!